Fano TV Fano TV Il sole è sorto alle 5.39 e tramonterà alle 20.48 A guardare bene fuori dalla finestra sembra una giornata più autunnale che di piena estate Perché oggi come vedete dalla grafica del sito della protezione civile delle marche Abbiamo parecchie precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale Sulle zone alto collinarie e montane sono isolati questi temporali altrove Dalla serata rovesci ancora temporali localmente anche di forte intensità Attenzione nelle zone collinari e costiere dunque per la giornata di oggi temporali Così come per domani vedete domani le nuvole sono state emesse ancora più cariche di pioggia Più grigie, grigioscure Dunque le precipitazioni domani saranno diffuse e persistenti A prevalente carattere di rovescio temporale Anche di forte intensità in particolare sulla fascia costiera e basso collinare La giornata di domenica lungo la fascia collinare e costiera ancora irregolarmente nuvoloso Precipitazioni sparse in colline e montagne anche lungo la costa Fenomeni che si attenueranno lungo la fascia costiera nel corso del pomeriggio Ancora in stabilità poi nella giornata di lunedì con miglioramento però già dal pomeriggio Ora ci dispiace chiaramente per i turisti che hanno deciso in questa settimana di essere qui nella nostra regione Ma oltre al mare non me ne voglia il bagnino cristiano ma oltre al mare Buongiorno Cristiano Oltre al mare ci sono anche tanti posti che si possono vedere quando appunto in spiaggia non ci si può andare Allora intanto tu ti sei messo a riparo qui vuol dire che anche a Torretta e Bagnazzurra sta piovendo no? Sì, sì, sta piovendo anche questa mattina sì, anche da noi Beh devo dire che non ricordo di aver fatto un collegamento in questi anni, sicuramente quest'anno no Ma con la pioggia quindi ecco devo dire che Facci vedere un po' la spiaggia se riusciamo Oggi vi mostro un pochettino il lato, quello superiore alla riva Ecco vedi, questo è il vostro stabilimento Vedete c'è chiaramente tutto quello che serve, un bar per fare le colazioni, qualche aperitivo Si pranza anche immagino, sì? Sì, si pranza anche, sì Il cuoco che prepara per pranzo insomma Bene insomma, allora per oggi abbiamo già visto insomma il tempo sarà così Quindi, ma la gente viene lo stesso? La gente viene lo stesso? Allora sì, perché noi qua abbiamo dietro lo stabilimento tantissimi appartamenti Quindi ci sono, come hai detto te prima, i vacanzieri che sono venuti questa settimana E quindi sono qua Le aspetto per la colazione, che quella lì la facciamo E poi oggi purtroppo il mare ha messo così il tempo Ecco allora, siccome cerchiamo di fare anche un po' di informazione Sì Allora, è bene ricordare che seppur sia una cosa romantica Fare il bagno quando piove non è molto indicato No, bravissimo Soprattutto quando ci sono temporali in corso Bravissimo, sì Perché in pratica diventiamo noi delle antenne Siamo l'unico punto in una zona molto aperta Dove ipoteticamente potremo essere colpiti Anche se è una cosa molto rara Da quello che può essere un fulmine Quindi è abbastanza pericoloso È meglio evitare di fare il bagno in queste situazioni Molto bene, allora grazie Cristiano Buon lavoro e buona giornata Ci vediamo domani mattina Grazie a voi Allora, i titoli delle notizie più importanti Cominciamo dal Corriere Adriatico Positive al Covid Bloccate a Corfu Parliamo di due studentesse pesaresi di 17-18 anni Che dicono sconsolate Ci hanno lasciato senza assistenza Le prenotazioni sono al di sotto delle aspettative Invece gli hub vaccinali costretti a riorganizzarsi A centro pagina una foto Un'immagine dei murales per il restyling Nei sottopassi il trionfo del colore I sottopassi di Pesaro Poi l'epidemia, effetto vax È crollato il numero dei ricoveri Lo vedremo tra un istante Poi a Pesaro la finanza che sequestra 110.000 articoli ritenuti poco sicuri Mascherine e quant'altro Dalla regione, a Gabicce Dalla regione fondi a 21 idee Sui centri commerciali naturali E poi a Urbino la teneo omaggio Il Duca Federico Questo è il futuro Seri invece a Fano Sindacati Tensione per lo smart working Per il lavoro da casa È il capo di gabinetto Ricevere dagli sindacati Cigelle Cislewil Polemica per le riprese video Degli uffici deserti Storie ancora tese Tra comune e sindacati Il terreno di scontro Resta quello Dello smart working L'incontro di ieri Dopo l'aspra battaglia Consumatasi A suon di delibere Comunicati conferenze stampa Va catalogato tra le prove di dialogo Senza illudersi Che quello cominci Sul serio E vada avanti Santa Croce Poi l'ospedale di Fano Sul sindaco È fuoco incrociato Il carrino di Pesaro Ex AMGA 11 anni di proteste Disagi La rabbia dei residenti Del porto Doveva essere Dicono Un parco Nella zona inquinata Ma nulla si muove A centro pagina Invece la fotonotizia La vacanza incubo Di due studentesse Positive al covid Sono bloccate A curfu La malasanità La protesta Mia madre Parcheggiata Sola per tre giorni Al pronto soccorso Il pronto soccorso In questione Quello di Pesaro E ancora La replica di Aguzzi A Seri Ospedale unico Non facendolo Si salvano Quelli di Fano E Urbino Poi c'è lo sport Ancora di spalla Qua sul Carlino di oggi L'Alma Fano Innanzitutto Che annuncia Anche se non l'ha fatto Ufficialmente L'era russo E le speranze Per la C Crescono Poi la Visi Invece Che acquista Un altro Portiere Arriva Campani Dal Sassuolo A difendere i pali Ma come sempre La nostra rassegna Il nostro commento La stampa Comincia dalla situazione Pandemica Nella nostra regione Intanto Il Corriere Adriatico Effetto Vax Età media Giù Neanche un positivo Su 100 È ricoverato Per il covid Quasi 1400 Marchigiani Hanno un'infezione In corso Solo 11 Però sono finiti In ospedale Un anno fa Il 7% Dei contagiati Finiva invece Nei reparti Niente decessi Qui in regione Da 11 anni Allora scrive Lorenzo Sconocchini Se all'inizio Dell'epidemia Più della metà Dei contagiati Finivano in ospedale E quasi 1 su 10 Con polmeniti Così gravi Da richiedere La terapia intensiva In questa seconda estate Nell'era del coronavirus Neanche l'1% Dei positivi attuali Sviluppano Segni clinici Del covid Tali da richiedere Un ricovero Intanto la curva Dei contagi In rialzo Dopo aver toccato Il suo minimo Nel 30 Il 30 giugno scorso Ha un andamento Questa curva Dei contagi Nervoso Ma non da impennata Decisa Come si potrebbe temere Per l'espandersi Della variante delta Con i 40 positivi Nuovi diagnosticati Ieri In netto calo Tra l'altro Rispetto a ieri l'altro Quando di positivi Ne hanno scovati 60 Le marche Chiudono a 223 casi La settimana Del monitoraggio Che oggi confluirà Nelle valutazioni Della cabina di regia A Roma Si tratta di 15 casi meno Rispetto alla settimana scorsa Che aveva risentito Del focolaio Divampato A San Benedetto del Tronto Poi l'incidenza Settimanale Dunque Del contagio Questo per fare chiarezza L'incidenza settimanale Dei contagi Per 100.000 abitanti Qui nelle marche È scesa A 14,85 E pensate che siamo Sotto la media nazionale Perché la media nazionale È 18,9 È dunque ben distante Dal limite di 50 Che fa scattare in automatico Il ritorno alla zona gialla Questo lo diciamo Insomma Per tutti quelli Che avevano gufato Contro la nostra regione Insomma Dicendo che Eravamo lì lì Per andare In zona gialla Invece Assolutamente Assolutamente no Andiamo sull'altra pagina Del Corriere Adriatico L'assessore regionale Alla sanità Filippo Saltamartini Dice Inizia la riforma Del piano sanitario No quindi Agli ospedali unici E quindi Pesaro Rubino E quindi Fano Sono interessati Da questa rivoluzione Da oggi Più sanità invece Sul territorio Quindi A differenza di quello Che aveva fatto Luca Ceriscioli Il precedente Governatore Con il raggruppamento Modifica della legge Del 2020 C'è tutto L'articolo Che porta La firma Di Andrea Taffi Nuovi ospedali A Pesaro Macerata E San Benedetto Del Tronto Accelerare I cantieri Poi c'è un'altra notizia Invece Anzi Interessante Torniamo un attimo Indietro Eccola qua Sì Interessante perché Perché Il Corriere Adriatico Pubblica Qui di spalla La reazione Del Governatore Acquaroli Alla Green Pass Le dichiarazioni Che il Presidente Della Regione Ha rilasciato A Stasera Italia Un programma Di Rete 4 Monitorare Tracciare I contagi E rispettare Le regole È essenziale Per superare La crisi pandemica Ma non dobbiamo inseguire Modelli imposti Da altri Quindi Francia Macron Magari perché Avevano una campagna Elettorale Che non decollava O sacche di resistenza Bisogna essere Dice Acquaroli Pragmatici E questa è la sintesi Dell'intervento Che appunto Ha fatto sul Green Pass Poi dice ancora Acquaroli In Italia In questo momento Le vaccinazioni Stanno continuando Molto bene Nelle Marche Abbiamo raggiunto Quasi un milione Di prime dosi Su circa un milione E mezzo di abitanti Facciamo circa 14.000 dosi Al giorno Abbiamo 12 Ricoverati per covid 14 positivi Settimanali Su 100.000 abitanti Quando zona gialla Scatta Per 50 E la media nazionale È di 11 Ora con una possibilità Di programmare La ripresa Completa Piuttosto che Correre dietro A modelli Che pure hanno Suscitato un grande Dibattito Come quello Il Green Pass Dice Acquaroli Mi sembra più importante Parlare di altro Per non creare allarme E tenere sotto controllo La situazione E ci sono due pesaresi Come avevamo visto Di titoli d'apertura Positive al tampone Sono bloccate In questo momento All'estero A Corfu Non sono le uniche Non saranno le uniche Quindi Chi va in vacanza All'estero Deve sicuramente Mettere in conto Anche Questa eventualità Una di loro È minorenne Ed aveva anche Già fatto una dose Di vaccino La scoperta Dopo il test Svolto in clinica Il giorno prima Di ripartire Attendiamo adesso La protezione civile greca Dicono Abbiamo chiamato anche La nostra ambasciata Ci dicono Di aspettare E dunque Una vacanza Come scrive Nicola Masetti Sul carriero di Pesaro Di questa mattina Una vacanza Che era iniziata Per queste due ragazze L'8 luglio Ma che ancora Non si sa Quando finirà Questa è un po' L'incognita Ma d'altra parte Queste cose si sapevano Non possiamo adesso Neanche prendercela Con nessuno Nel senso che Sì Uno ci rimane Magari un po' male Ma uno sa Che in una situazione Come questa Di grande difficoltà E di pandemia Dove ci sono Tante incognite Pensare di andare In vacanza Che tutto vada liscio Senza mettere in conto La possibilità Di essere contagiati Insomma È una più illusione Quindi uno Lo mette in conto Oppure sta a casa O a due passi Da casa E si fa La vacanza Allo stesso Ma ognuno poi Fa e crede come vuole Ma quali danni In realtà La fotografia Riporta indietro A quella domenica Domenica scorsa Quando tutta l'Italia Ha festeggiato Questi sono Due fotogrammi Dei festeggiamenti Chiamiamoli festeggiamenti Tra parentesi Perché insomma Comunque Di Pesaro Uno dei vandali Di Viale Trieste Scrive un post Su Facebook Che poi Rimosso Dice Ma quali danni Era soltanto Euforia per la vittoria Tra l'altro Questo ragazzo Chiedeva agli amici Solidarietà Viste le accuse Che gli sono state rivolte Dalla polizia locale Di Pesaro Intanto Già tre persone Sono state denunciate Per aver spaccato Cestini e Totem Quelli pubblicitari Ma se ne cercano altri Al pronto soccorso Invece una storia Una storia Che arriva appunto Al pronto soccorso Del San Salvatore di Pesaro Pazienti in storia In sosta per giorni Il racconto Di una donna Che dice Mia mamma Di 90 anni È stata lasciata da sola Su una barella Da mercoledì mattina Dicono Che non c'è Più posto E racconta appunto Monica Oman Di Pesaro Reduce Dal ricovero Dell'anziana madre Di 90 anni Lunedì scorso Già con Vari acciacchi Compreso un principio Di Alzheimer Non respirava bene Così al mattino Alle nove Ho chiamato l'ambulanza Ed è stata portata Al pronto soccorso Non ho potuto Accompagnarla Perché non era Possibile Entrare A mezzogiorno A mezzogiorno Mi hanno chiamato Per chiedermi Il consenso All'uso del plasma Avendo lei Una forte anemia Insomma Poi racconta Tutto quello Che è successo Però Insomma Per dire che Questi anziani Sono spesso In questi casi In queste situazioni Dove c'è carenza Forse di organico Adesso non si sa Bene di preciso Aspetteremo eventualmente La risposta Dell'azienda ospedaliera Ma insomma Sono cose che Ahimè Purtroppo Non dovrebbero accadere Ma a volte Accadono Intanto a Fano Invece il tema È sempre quello Del lavoro da casa Che sta tenendo banco Ormai da diversi giorni Il sindaco di Fano Massimo Seri È finito sul banco Degli imputati Sul tritacarne mediatico Addirittura È stato intervistato Da un programma Di Rete 4 Zona Bianca Vedete la fotografia Su questa storia Dello smart working In sintesi Lo diciamo anche Per qualche turista Magari che non sa La cronaca locale E quindi vorrebbe Capirci qualche cosa Al di là dei titoli Il sindaco A un certo punto Ha richiamato Tutti Tutti al lavoro Quindi Ha detto Da mercoledì Tutti quelli Che fanno smart working Per il comune di Fano Tutti i dipendenti Tornino Nelle loro stanze Un richiamo Che però Ha scatenato Come era Forse prevedibile Non lo so Comunque I sindacati E quindi Da lì Un fuoco Incrociato Allora Smart working Tensione sindacati seri Solo il 15% Fragile Lavora Oggi da casa Il sindaco Va su Rete 4 CGL Cisle Will Ricevuti Dal capo Di gabinetto Gli uffici vuoti Ripresi fuori Dall'orario Mentre Mascarin L'assessore Parla di scuola La nuova scuola Di cuccurano Di fano Che sarà pronta A settembre Lui rassicura Ulteriori 200 mila euro Per i nuovi arredi Mentre sul Santa Croce Perché il sindaco seri Non solo Sullo smart working Ma anche Sulle recenti dichiarazioni Sull'ospedale Santa Croce Ha detto A noi ci lasciano Un ospedaletto Come dire Pensano solo A potenziare Quello di Pesaro E Tralasciando invece Quello di fano Seri però Finisce nel mirino Tuteliamo l'ospedale E ci attacca Reazioni del centro-destra Alle parole del sindaco Proposta A Movimento 5 Stelle Aggiungere i 50 posti Di chiaruccia Poi invece Sulla viabilità in centro No alle chiusure Adesso Marcolini di Confcommercio Dice stop A dichiarazioni Di principio Sul tema E in questo caso Il tema è quello Del pedonalizzare Il centro storico di fano Sì o no Intanto In realtà Fano ha un problema Che è di immagine Se vogliamo E siamo qui a parlarne Tutti gli anni Più o meno All'inizio Di ogni estate Ed eccola qua La foto Che è Il problema È l'immagine Che si vede Praticamente Arrivando da Fano Lungo la statale Adriatica Di fronte al mare Questo era Un ex albergo Un ex hotel Si chiama Hotel Riviera È lì Abbandonato Veramente ai fantasmi Perché questi teli Che svolazzano Poi soprattutto In queste giornate Ventose Danno l'impressione Di essere Un Veramente Un Vecchio castello Come dire Popolato Da fantasmi La protesta È di Un Titolare Di un vicino Camping Che dice È inconcepibile Una bruttura Così Tra il mare E la collina È veramente Un pugno In un occhio Per chi arriva da nord L'ingresso di Fano È segnato Dalla vista Del rudere E dei suoi teli Perché Il problema sono Più che altro I teli Questi teli Che sono lì E che non sono mai Stati tolti Mai stati riposizionati Io Francamente Ecco In questo caso Non capisco Mi sfugge qualche cosa E non capisco Come mai Il comune di Fano Come ha fatto Pesero Per esempio Matteo Ricci A un certo punto Ha imposto Ai proprietari Ai costruttori A coloro che avevano Le impalcature Di togliere Tutti questi Teli Volanti E di sistemare In maniera decorosa Il cantiere Non capisco Perché Fano Non lo faccia O non lo abbia fatto Andiamo invece adesso Sulla pagina Della Val Cesano Del resto del carino Passaggio di scuole Tra Fano e Mondolfo Chiusa dalla regione Marche La diatriba Tra i due comuni Sugli immobili Di proprietà Della città della fortuna Quindi di Fano Che si trovavano a Marotta Qui ovviamente Si parla ancora Di quelle situazioni Logistiche Che sono da sistemare Dopo il passaggio Di un pezzo di Fano Dal comune di Fano Appunto A quello di Marotta Con questo atto Siamo ad un passo Da completare L'unificazione Poi Anche qua Sul Corriere Adriatico Gli immobili gratis A Marotta A sette anni Dall'unificazione Arriva La delibera Della giunta regionale Sul passaggio Senza pagamento Quindi gratis L'iter bloccato dal 2015 Nuova vita Per l'ex scuola Fantini E il fabbricato Di via Ferrari Che ora sono Inutilizzati Mentre la cronaca Un processo Era accusato Di razzia Al Balì Al Balì Di Colli Al Metauro Ma non ci sono le prove Quindi è stato assolto Un pesarese Di 52 anni Difeso dall'avvocato Gaudio Sotto Linea telefonica E ADSL In tilt Disagi In farmacia San Costanzo Scarponi Parla Gabanini Il gestore Contattato Le riparazioni Avverranno Soltanto Nella giornata Di oggi L'Ateneo Urbinate Invece Adesso Si mette a nudo La novità È l'hashtag Sai perché Presentata La campagna Di comunicazione Non tradizionale Dell'Università Di Urbino Calcagnini Dalle motivazioni E poi sotto Infarto Prima dell'operazione Salvato in extremis Un ultra settantenne Soccorso Nel reparto Di chirurgia Dall'equip Di Cicetti E nel momento Peggiore Era E si è trovato Nel posto migliore Ovvero In mano Ad una sanità D'eccellenza Che funziona La vita di un uomo Di più di 70 anni È stata letteralmente Salvata Da quest'equip Medica Del reparto Di chirurgia Di Urbino Attraverso una lunga Rianimazione E tutto è accaduto All'improvviso L'uomo si trovava Già in ospedale Per sostenere Un intervento chirurgico Semplice Programmato da tempo Quando all'improvviso Ancora prima di finire Sul tavolo operatorio Prima che i bisturi Lo incidesse Per motivi Non riconducibili A questa operazione È andato In arresto cardiaco E Come dire Siccome non era arrivato Il suo tempo È stato salvato Perché si è trovato Nel posto giusto Al momento giusto Valmetauro invece Sulla pagina Del Valmetauro Del Corriere Musica mare A Ponte Sasso Venerdì sera Sarà uno spettacolo Appuntamento fisso A luglio e agosto Pagnetti dice Le periferie Non trascurate Quindi parliamo Di questi eventi Sapete che ce ne sono pochi Ma insomma Quelli che ci sono Bisogna cercare Di gustarseli tutti Ex casa di riposo Fatiscente Quale destino Invece L'osservatorio Cittadino di Fossombrone Mette in fila I buchi neri Bisognosi di soluzioni Mentre Qui c'è una provocazione Chiaramente Che è di un DJ Sapete che Le discoteche Sono ancora chiuse Però molti Proprietari di discoteche Sono imbestialiti Imbufaliti Semplicemente Perché Perché dopo aver visto Le scene Di questi festeggiamenti Domenica sera In giro Soprattutto a Roma Tutta questa gente Che ballava Cantava Urlava Eccetera eccetera Ecco i gestori Di fronte a queste scene E siccome non lavorano Ormai da molti Mesi E quindi sono molti In difficoltà Davvero tanto in difficoltà Allora hanno Hanno cominciato A battere I piedi E a battere i pugni A Pesero Ci pensa Il DJ Minuz Che dice Dopo cortei e parate Chiamo tutti Come dice Il 17 luglio Sarò Sarò a living Quasi in chiusura Non vive in questa regione Che potrebbero arrivare In zona gialla Ma quando mai Chi l'ha scritto Io prenderei il giornalista Il collega E gli direi Adesso mi dici Perché è scritto Queste bagianate Perché poi i danni Sono sulla pelle Dei lavoratori Sulla pelle Di chi lavora Allora Chiudiamo con lo sport Perché abbiamo Questa notizia Importante Per i tifosi fanesi L'Alma È ufficialmente Di Mario Alessandro Russo Che è un 43enne Imprenditore Casertano Del settore Informatico Applicato Alla sanità E dunque Il nuovo proprietario Dell'Alma Perché Perché ha concluso Come scrive Silvano Clapis Con il presidente Enrico Fattò Fidani Il passaggio Del club In un incontro Che si è svolto Proprio ieri A Fano L'ufficialità Dovrebbe arrivare Però nei prossimi Giorni Dunque Alessandro Russo Mario Alessandro Russo È il nuovo padrone Dell'Alma Però non da solo Ma insieme Ad un paio di soci Sempre della Campania E questa dovrebbe essere La nuova compagine Intanto L'addio di Uffidani Dovrebbe segnare Anche l'allontanamento Del DG Direttore generale Simone Bernardini E del DS Direttore sportivo Dunque Mauro Traini Una notizia Schede sempre Clapis Che non farà strappare i capelli Alla maggioranza Dei tifosi fanesi I quali da tempo Chiedevano la testa Dei due dirigenti Perché? Perché colpevoli Secondo loro Del disastro Dell'ultima stagione Culminata con la retrocessione In serie D E allora Questa era l'ultima notizia Come dire Selezionata Per il nostro Commento alla stampa Commento alla stampa Che torna domani mattina Come sempre alle 7 Questa sera invece Alle 20.30 Ci vediamo per il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti